non hai idea di cosa ti sei perso fino adesso te ma proprio non hai neanche la minima idea vedi ha già detto tutto lui te è scesa dal carrello l'ho portata qua basta lì è rimasta ormai c'è il buco per terra no lui gli altri l'hanno usata la sua lì l'ha messa e lì è rimasta non l'ha più accesa no no non siamo andati oggi no perché non si sa mai manca aspettiamo settimana prossima ancora con quel sasso ancora non hai bagnato adesso è asciutto qua è asciutto si vabbè lo puoi fare la metà là dove c'è cucuzio dove l'ho fatto l'altra volta no qua non lo puoi farlo dai ti metto l'invito tocca no 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 non ci sono troppo bagnato eh questa cosa me la butta su eh qua con la lattina ecco quella lì è abbastanza vai vai mentre vuoi andare non lo faccio però portalo via dai che ti filmo ti filmo da qua ti faccio un no no non lo faccio là in cima no lì lì a metà a metà faccia di fare il sasso se cadi ma si può ma si po beh così la provo anch'io dai vedi che comunque ha fatto anche lui uguale alla mia con la canna dell'acqua e perché al suo tiene il mio no allora 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 tu pensa che i dieci anni di regionale di più tutto così tu eri in zona e loro erano fuori a fare quel lavoro lì come cazzo faceva fare le zone dopo loro vincevano ho capito dov'è oppure che ti ruzzava ti dava i colpi e ti spostava guarda e guarda anche lui guarda 1 2 c'ha sempre sta cosa che è slacciata oh boh si che puoi andare perfetto adesso puoi farlo bene adesso è a posto preciso la taschina è chiusa c'è anche questa per se andava su a zero mi incazzavo stavolta no stavolta non gli dice no io ci passo io faccio questo come che merda che mi viene sono sposti sei troppo avanti l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo dietro e sta diventando sieni l'ho messo l'ho messo che ha acceso la moto incredibile la mia c'era su le cornate c'è su lo scheletro non la do perchè c'ha paura si ricorda ancora si ricorda ancora spanti si ricorda ancora è pericoloso questo qua già c'è il cargamella che mi passa addosso è quello ma è così stretta io non sono capace di calcio esporto perché esporto che non sono buono eh sì ciao grazie ma perché devi spostare io non sono capace io non sono capace di spostare cazzo esporti proviamo senza spostare ok ciao non sono capace di spostare cazzo esporto e non sono capace di spostare cazzo esporti no 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 io non riesco a spostare ma qua c'è vero che ti l'ha fatto di te ma allargarla solo eh quello che ho provato adesso ma arrivi alto dopo eh e ti porto di la vedi come l'ha fatto a me eh ho capito ma tanto è lì eh giusto così bravo Ale così eh vedi poi pianoia arrivi lì che sei dretto eh si 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 non 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 Prova! da qui da qui dai sposta dai sposta qui oh sei giusto da lì potevo tenerlo qui quel piede del cacchio lì è perché ero in prima però ci stai ero in prima ero in prima se in seconda vai ci meglio la fa il cuore è troppo corto sempre da prima